Qual è il SUV che più privilegia il comfort? Nissan Qashqai, 1.7 di cilindrata, 150 cavalli nell'allestimento N-Connecta. Alimentazione diesel aziendale, immatricolata nel 2019, certificata e garantita perché ha passato il test dei 100 punti di controllo muscolose le scanalature del frontale che la rendono sportiva e aggressiva. Nera con lunotto e vetri posteriori oscurati, particolarissimi i led sugli specchietti retrovisori, molto eleganti le profilature cromate dei finestrini. Cerchi in lega da 18 pollici e il battistrada è in splendide condizioni. Bagagliaio con luci di cortesia su due livelli che parte da una capienza di 430 litri. Se lo spazio non dovesse essere ancora sufficiente, ecco che possiamo arrivare a 1598 litri. Grande comfort garantito a tutti i passeggeri, sia nelle sedute anteriori che in quelle posteriori. Sedili in tessuto super curati, attacchi ISO fix a tutte le sedute, bracciolo centrale estraibile con due pratici portabibite. Il volante è dotato di numerosi tasti, per la gestione dell'infotainment, comandi vocali e cruise control. Modalità eco per uno stile di guida attento ai consumi. Numerosi sistemi di assistenza alla guida come l'avviso di superamento della carreggiata, il sistema di accensione è keyless start and stop. Soli 24.000 km percorsi, la plancia è di grande design ma semplice ed intuitiva da usare. 4 strumenti posto in posizione rialzata e protetto dai raggi solari. Sotto le bocchette dell'ariazione al centro della plancia troviamo un bellissimo display dal quale è possibile gestire tutto l'infotainment. Navigatore, la radio, la retrocamera e le varie impostazioni di setup. Inferiormente troviamo il clima bizona analogico ed è anche possibile connettere il proprio smartphone attraverso bluetooth. Il cambio che è automatico, incorniciato da delle bellissime luci a led rosse. Moltissimi vani porta oggetti a partire dai due porta bibite e abbiamo anche il bracciolo con doppio ripiano e presa usb all'interno. E i consumi? Nissan 100 km in extraurbano. Nissan Qashqai è il SUV compatto per famiglie che vogliono muoversi con grinta e comfort. Vai subito sul nostro sito rassiauto.com, bloccala con soli 100 euro, ricevila direttamente a casa con servizio a domicilio con igienizzazione, seguici su tutti i social e non dimenticare di cliccare sulla campanellina del nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri ultimi video. Alla prossima auto! Ciao!